Ciao a tutti voi da Rosi, siamo qua in Autoservice per vedere grandissime occasioni, come sempre presentate da Pietro che è qui accanto a me. Ciao Pietro! Buongiorno a tutti, siamo a Robbiate, ricordiamo sempre l'indirizzo Robbiate, via delle Rovedine 36. Oggi partiamo subito alla grande, partiamo col massimo che offre Mercedes, partiamo con una classe S. Questa qua è una S350, già l'ultimissima serie con la nuova motorizzazione, è un passo corto 4x4, una macchina dedicata a chi viaggia, a chi fa veramente tanti chilometri. Questa serie qui sono tutte macchine dove elencare gli accessori ci vorrebbe una giornata, sono piene di ogni comfort, di ogni accessorio. E sono macchine del 2017 fine, dicembre esattamente, mediamente hanno fatto, questa ha fatto 27.000 km, quella dietro ne ha fatti 24.000. e hanno un prezzo di listino nuovo che si aggira intorno ai 120.000 euro e vengono proposte a 84.000 euro queste qua. Sono due, sono praticamente gemelle, cambia giusto solo il cerchio in lega. classe E, una E220, nera, 150 cavalli turbodiesel, motore 2000, anche questa è la nuova motorizzazione. Questa è già un 2018. È un marzo 2018, ha fatto 25.000 km, cambio automatico ovviamente, navigatore, fare a LED e quant'altro. Una macchina che solitamente è molto ambita dai noleggiatori, per gli NCC, è una vettura che viene proposta a 34.900 euro. Del 2018 ed è perfetta, veramente perfetta questa qui. Una GLC, quindi entriamo nei SUV. Questa qua è una 220 Sport. Anche questa è un 2018, 170 cavalli, 4x4 ovviamente, fare a LED, navigatore, sensori parcheggio, poi di tutte quelle che stiamo guardando, colorazioni, quindi anche abbinamento degli interni, vari accessori, c'è la scelta un po' di tutto. Questa ha fatto 10.500 km. È una vettura che a listino siamo a 62.000 euro e viene proposta a 43.500. Abbiamo in arrivo anche una 250, grigio scuro, quindi una vettura con un po' più di cavalli, da 170 passiamo a 204 cavalli e quella viene proposta a 47.500. Sempre rimanendo sui SUV, passiamo alla GLA, GLA Sport Utility di Mercedes, il più piccolo, ma possiamo dire il più venduto per dimensioni, per stile, per linea. È una macchina che piace veramente tanto. Questa qua è una GLA 180 benzina, nella versione Sport. Questa, cambio automatico, cerchi in regla da 18, fare a LED, navigatore, sensori parcheggio, interno sportivo, pelle e tessuto. È una vettura che ha fatto 25.000 km all'incirca e viene proposta a 29.500. Il listino di questa vettura qua, nuova, si aggira poco sotto i 40.000 euro. Altrimenti abbiamo una Renegade, è una delle ultime che c'è rimasta, è una motorizzazione 1.6 benzina, 110 cavalli, è la versione Sport, gli sono stati aggiunti i cerchi in lega, il colore bianco, la vettura è completa di Bluetooth, climatizzatore, chiavetto USB e tutto quello che serve. Viene proposta a un prezzo interessantissimo, questa qua è stata targata a luglio 2018, viene proposta a 18.000 euro. 18.000 euro, chilometri zero, c'è scluso solo il passaggio di proprietà, però è un prezzo fortemente scontato. Qua parliamo del 27% di sconto rispetto al listino. Se invece vogliamo rimanere su una vettura sportiva, ma comunque pensata per la famiglia, quindi un piccolo station wagon, parliamo di CLA Shooting Brake, questa qua è sempre nella versione Sport, è una 180 benzina, quindi 1.6, 122 cavalli, cambio automatico, anche queste sono allestite di cerchi in lega da 18, fare a LED, cambio automatico, navigatore, sensori di parcheggio davanti e dietro, l'interno sportivo, pelle e tessuto, abbiamo i sensori di parcheggio davanti e dietro, e questa qua viene proposta a 27.500, ha fatto circa 25.000 chilometri e anche lei è un novembre 2017. Diversamente se la CLA Shooting Brake risulta un po' troppo piccola per la famiglia, qui abbiamo una classe station wagon, sempre una motorizzazione 2.000 turbodiesel, 150 cavalli, cambio automatico, navigatore, sensori di parcheggio, fare a LED, anche questa è completa di tutto, un 2017 e questa qui ha 25.000 chilometri e è proposta a 34.800 euro. Qua invece troviamo la nuova classe A, la nuova classe A, per adesso abbiamo delle chilometri zero, come questa, che è un 180 diesel, questa qua è nella versione sport, ha il pacchetto night, quindi tutta nera, cerchio A18 con le finiture nere, fari a LED, cambio automatico, il navigatore, questa qui ha il cockpit tutto unito, chilometri zero, cosa vuol dire? Che è una vettura che di listino costa 38.800 euro, viene proposta a 33.900 euro, la vettura è nuova appena targata, quindi anche su questa vettura qua che è nuova abbiamo degli ottimi prezzi. Altrimenti, chilometri zero, visto che siamo entrati nel discorso chilometri zero, abbiamo le Jeep Compass, allora Jeep Compass le abbiamo o 1.6 diesel, cambio manuale, versione limited, oppure 2.000 turbodiesel, cambio automatico, 4 ruote motrici. L'abbiamo in due versioni, adesso stiamo vedendo la limited, che è la versione più completa, nera, questa qui ha qualche accessorio, ha l'interno in pelle, cambio automatico e la vernice metallizzata. Queste qua sono macchine che di listino vengono 41.3, così allestite, e vengono proposte a 30.700 euro. Bene, ci siamo spostati all'esterno per trovare l'altra versione della Compass, questa qua anche lei, la motorizzazione 2.000 turbodiesel, 140 cavalli, cambio automatico 4x4. Questa è la versione Night Eagle, cosa vuol dire? Che è un po' più ricercata, mascherina nera, i cerchi neri, tutto il nome scritto in nero, sia Jeep che Compass, internamente ha il navigatore grande 8.4 e la telecamera posteriore. Questa qua è una vettura che, nuova, viene proposta a listino a 39.700, chilometri zero, come questa, targata ad agosto 2018, viene offerta a 29.9. Adesso ci troviamo in mezzo alla precedente classe A, è una macchina che ha fatto veramente dei numeri spettacolari per Mercedes. Stanno quasi finendo, quindi non ne sono rimaste tantissime. Abbiamo dei turbodiesel in questo momento, abbiamo dei benzini in arrivo, però sono macchine che oramai non ce ne sono più tantissime. Questa qua è una Sport, 1.5 turbodiesel, 109 cavalli, un 2017, una vettura che ha fatto più o meno 25.000 chilometri ed è proposta a 20.900. Stanno finendo, ma i prezzi stanno scendendo, quindi ci sono delle offerte veramente molto interessanti sulla classe A precedente. Oltre a queste, voglio ricordare che comunque abbiamo chilometri zero anche di altre marche, abbiamo Peugeot, Citroen, abbiamo Fiat, abbiamo diversi marchi a chilometri zero. Ci siamo spostati nel reparto commerciali. Qua troviamo un inedito, abbiamo la classe X250, questa qui è una delle primissime che si possono trovare sul mercato Italia come aziendali. È una versione del novembre 2017, ha fatto 3.700 chilometri, è un X250 Power, quindi la versione più completa. Qua così abbiamo cerchi a 19, telecamera a 360 gradi, interno in pelle, cambio automatico. Abbiamo veramente tutto, è una macchina che è nuova di listino, si avvicina a 60.000 euro, siamo a 59.800 euro, viene proposta a 45.500. La vettura è praticamente nuova, 3.600 chilometri. Proseguendo abbiamo Vito, Vito 116, 114, quindi 160 cavalli, 140 cavalli. Nella versione long, quindi intermedio, 5,10 metri, sono entrambe 9 posti, quindi disposizione 3,3,3. Abbiamo su tutte cambio automatico, abbiamo navigatore, pneumatici 4 stagioni. I mezzi sono del 2017, hanno fatto mediamente 45.000 chilometri e vengono proposti il 116, che è questo nero, a 34.500 euro. Il 114, che è argento, viene proposto a 31.000 euro. I prezzi, che sto dicendo, dei commerciali sono tutti IVA inclusa, non sono più IVA, sono tutti IVA inclusa. Altrimenti abbiamo il classe V, classe V è la versione elegante del Vito, è quella da festa. È rifinito, paraurti in tinta, internamente questo qua è un 7 posti, è molto più rifinito, cerchi in lega 17, la strumentazione cambia completamente, è sempre cambio automatico. Questa qui è una macchina fatta 13.000 chilometri, ben accessoriata di tutto e viene proposta a 43.000 euro. Ricordo sempre, come dicevo prima, che anche sui commerciali abbiamo la possibilità di avere chilometri zero anche di altre marche, come questo Citroen Emo, che è un 1.4 turbodiesel. È un chilometri zero immatricolato nel 2018 e questa qua viene proposta a 10.000 euro IVA compresa. Infine siamo arrivati alle Smart, Smart anche queste aziendali, abbiamo sia aziendali che usate ovviamente. Aziendali abbiamo le 4TU, queste qua sono vetture del 2016, cambio automatico. Sono auto ben accessoriate perché hanno interno in pelle, hanno il navigatore, cambio automatico appunto, gli specchietti elettrici. Le abbiamo disponibili o tutta bianca come questa o altrimenti le abbiamo bianca e argento. Di questa c'è qualche pezzo e la proponiamo a 8.500 euro. Altrimenti abbiamo la 4TU, la 4TU, quattro porte, tutto è cambio automatico. Questa qua è la versione Youngster, quindi in più hai cerchi in lega, cambio automatico, climatizzatore automatico, la radio Bluetooth, non ha il navigatore. Viene proposta a 11.500 euro. Su entrambe è disponibile il finanziamento, 99 euro al mese, si sviluppa un anticipo, un minimo di anticipo e 99 euro per quattro anni. Pietro, non abbiamo più tempo, abbiamo concluso. Naturalmente vi invitiamo a venire qui anche per una cosa importante, il servizio post vendita. Assistenza e a partire dal mese di agosto di quest'anno anche carrozzeria. Esatto, giusto. Grazie Pietro. Arrivederci. Ciao.